ciao sono davvero felice di aver recuperato uno di questi perché ho scoperto una notizia terribile sui kit di primo soccorso e sono veramente sconvolta ok cominciamo ma prima ricordi quando parlavo di quella notizia terribile su questi kit ecco non era vero volevo solo mostrarti in che modo il linguaggio emotivo può essere usato per manipolarci per fortuna lo avevi capito altrimenti dovresti stare in guardia quando leggi dichiarazioni titoli e notizie che sembrano sospette riconosci toni furvianti